Lo so cosa state pensando, è la pazzo come fa stasera l'Inter a perdere con lo Young Boys Il mio pronostico è 2 a 1 per gli svizzeri perché io sono il più grande esperto di calcio E seguo lo Young Boys, seguo il campionato svizzero E vi dico che là è un campo ostico e l'Inter stasera non ci vince E noi guferemo, esulteremo questa sera perché l'Inter farà 0 punti Vi dico che l'Inter non solo non vince ma perde neanche pareggia E io lo trovo, quindi forza Young Boys, come on, let's go, batti gli interessi per noi Svizzero da noi, forza Young Boys Devono ringraziare solo che non c'è Cialanoglu Devono ringraziare solo questo Devono ringraziare che domenica non c'è Cialanoglu L'esperto qua Ma va che figliocchi che ho io E dopo mi prendono per il ciap Hai questi figliocchi in giro? Eh sì, ho questi figliocchi in giro, esperti Capito? E mi prendono per il ciap tutti Eh ma hai certi figliocchi esperti? Eh sono esperti Perché lui conosce il campionato svizzero benissimo Eh sono esperti Quando uno è esperto è esperto Tu sei esperto in cosa? In musica io sono esperto in chitarra E tu io sono esperto in campionato svizzero Devi vedere sempre la loro prospettiva Sono esperti in qualcosa E tu io sono esperto in questo